Allora intanto ciao a tutti, grazie per essere venuti. Mi presento, mi chiamo Ricordo Magliocchetti, per lavoro faccio di solito il sviluppatore Python, faccio anche il consulente, adesso sto facendo una cosa interessante con il team per la trasformazione digitale del governo, quindi magari se qualcuno è interessato poi ne parliamo e il mio endo su Twitter è Remistaken. Allora, siamo a WordCamp e quindi l'intervento farà dei riferimenti a Wordpress giustamente. Allora, spero tutti voi sappiate che Wordpress è un solito open source, però secondo me non è sempre così chiaro cosa significhi in pratica, quindi proviamo a fare un giochetto e mi aiutate a definire cosa è un software open source o meno. Un software open source è open source perché ho disposizione sorgente, chi dice di sì alzi la mano, è una condizione necessaria ma non, quindi non tutti, ok. Se è un software open source posso installarlo quante volte mi pare? Sì, no? Se è un software open source deve per forza essere gratis. Qualcuno dice di sì? Bravissimo. Allora, la cosa è un po' più complessa in verità perché Wordpress non è solo un software open source ma è rilasciato sotto licenza GNU GPL2, più anzi, e questo porta dentro altri vincoli. Le licenze GNU sono ovviamente copyleft, cosa vuol dire? Che tutti i lavori derivati prendono la stessa licenza. Il progetto Wordpress è abbastanza chiaro sul fatto che time e plugin siano lavori derivati, quindi in teoria per essere compatibile con la licenza ogni cosa che noi facciamo su Wordpress a partire dalle modifiche al core ma appunto anche temi e plugin devono essere rilasciati con questa licenza. A riguardo alle definizioni di prima, qualcuno diceva che non deve avere l'esorgente perché sia open source? Sbaglio? Qualcuno? Non basta. Non basta, ok. Per avere chiaro un po' il panorama, quando si vale i software, secondo me, bisogna sempre distinguere produttori e consumatori. Lo sviluppo del software possiamo considerarlo come un mercato e quindi sono sempre queste due figure. Perché è importante? Perché per me il sviluppatore, cioè essere produttore o consumatore fa la differenza e non si è sullo stesso piano. Si è attori dello stesso mercato ma non si è, diciamo, la stessa figura. Quindi partiamo dai produttori, chi sono? Sono ovviamente quelli che scrivono software e nel caso di software open source ovviamente lo condividono. Ci facciamo aiutare da questa vignetta per vedere come sono sviluppati i software open source. Come vedete, questo bellissimo team da 11 persone, mi pare. Abbiamo manager, abbiamo sviluppatori, abbiamo quelli che fanno i grafici. Abbiamo lo stagista che porta il caffè. Come vedete è sicuramente un'immagine reale perché come vedete l'80% sono maschi bianchi, c'è solo una ragazza e credo basta. Un ambiente molto diverso. Sfortunatamente però la realtà non è questa. E la realtà è più questa. Vedete, il povero sviluppatore alle tre di notte che dice dai, si sentivamo l'ultima cosa prima della letta. Vabbè, questa è una cosa un po' pittoresca. però per andare poi nel dettaglio dei dati dobbiamo introdurre il concetto di track factor o anche conosciuto come bus factor. In verità. Il bus factor è il numero degli sviluppatori di un progetto che metaforicamente non essere investiti da un autobus perché il progetto perda di conoscenza o capacità di essere sviluppato. È un'immagine un po' macca ma fa rendere l'idea, diciamo. Nel 2016 è uscito questo paper di questi ricercatori brasiliani dove prendono dei progetti da GitHub hanno scelto quelli più popolari escludendo ovviamente a quelli tipo Linux kernel che è ovviamente un altro discorso dal loro paper salta fuori che prendendo i progetti i 183 progetti più popolari hanno dimostrato che l'87 che fa circa il 65% hanno un track factor minore o uguale di 2 che vuol dire che questi progetti importanti hanno solo due persone che la portano avanti. Non lo so se siete non so se nel mondo del software capite un team da due persone magari manco full time così non è un gran numero non è un gran team come quantità. WordPress ovviamente fa storia a sé non rientra nel progetto tipo su GitHub perché è abbastanza complesso è maturo c'è da molto tempo ha una comunità immensa i numeri presi dal credits della 494 quindi la penultima diciamo abbiamo 1 più 5 le developers 40 core developers e questi qui sono quelli che possono committare direttamente il codice e in più la 49 immagino ha avuto circa 500 contributors i contributors sono quelli che magari fanno una patch magari non è perfetta e quindi il core developer la committa e mette le cosiddette props nel messaggio di committa come dicevo prima in questo mercato del sviluppo del software produttori e consumatori non stanno sullo stesso livello e questo ragionamento è stato riassunto bene da questa frase di Noah Kantrovitz che ho trovato per caso in realtà non la conoscevo quando ho fatto ricerca per questo talk proviamo a leggere insieme e dice che l'altro problema ovviamente nel contesto è il sviluppo software open source è il crescente sbilanciamento tra i produttori e i consumatori e in questi giorni molte e poche persone ci mettono l'impegno e il lavoro per sviluppare software la grande maggioranza maggioranza semplicemente beneficia di questo lavoro una parte interessante è questa che dice per una società per un'azienda ripagare sia in tempo che in denaro anche una piccola frazione di questo valore che deriva dal concetto di cosiddetti commons che essenzialmente a grandi linee le cose disponibili pubblicamente in cui lui inserisce anche il software open source è pressoché impensabile cosa vuol dire che c'è poca gente che scrive software e molta gente che lo usa direttamente o meno ecco questo slide ci mostra uno che possiamo considerare un'umarella che però è in vacanze quindi non vede cantieri ma guarda qualcos'altro che è secondo me l'approccio che la maggior parte dei sviluppatori o le aziende che soffrono di software hanno nei confronti del software open source lo usano lo guardano ci fanno le pulci però le mani le tengono dietro la schiena essenzialmente e quali sono le conseguenze di questo sbilanciamento tra produttori e consumatori sono che ci ritroviamo con progetti importanti che non hanno abbastanza mano d'opera e quando questi progetti importanti sono installati su miliardi di dispositivi che hanno dei problemi di sicurezza perché essenzialmente nessuno è pagato per fare review riguardo alla sicurezza o meno nascono dei problemi il logo a sinistra è quello di Harplied una vulnerabilità della libreria open SSL di qualche anno fa che permetteva semplicemente a un client che si connette tramite il protocollo SSL di leggere la memoria del server questo è stato abbastanza drammatico e diciamo che probabilmente è una cosa che ha rotto l'internet per un po' il problema di open SSL è che è la libreria criptografica più usata al mondo la state usando sicuramente se avete un'installazione di un web server probabilmente la state usando sul vostro telefono o sul vostro orologio non lo so sul vostro computer il problema era che ai tempi quindi stiamo parlando di 2015 2016 c'era un solo giubbattore full time nemmeno pagata per lavorare sempre sul core ma magari faceva consulenza cosa del genere immaginate una libreria usata cioè installata dappertutto essenzialmente con solo una persona e che non lavora manco full time sul progetto con la destra invece Shellshock il logo di Shellshock una vulnerabilità della Shell Bash di qualche anno fa e anche qui l'anendot è che Bash è essenzialmente il progetto sviluppato da una persona però è tipo la Shell di default di la maggioranza dei sistemi Unix o Linux e anche Mac OS X e quindi anche qui abbiamo milioni di persone che ne beneficiano miliardi di macchine che ne beneficiano e sono una persona che fa il lavoro poi entro qui un altro concetto che è quello di etica questa è la prima riga della definizione presa da Wikipedia italiana che dice l'etica è distinguere i comportamenti umani in buoni giusti leciti rispetto a quelli ingiusti illeciti e sconvenienti ricordiamoci di questa definizione per introdurne un'altra che è quella di sostenibilità sempre da Wikipedia la caratteristica di un processo di uno stato che può essere mantenuto in un certo livello indefinitivamente ora a luce di questo capite che fare l'umarella che guarda la gente che lavora potrebbe essere considerato etico ci può stare sostenibile magari no come caso ad esempio vorrei prendere questa cosa che ho scoperto recentemente sempre prendendo il talk che esistono questi store di plugin GPL e temi GPL che semplicemente tramite un abbonamento ti permettono di scaricare quanto si vuole ora ho trovato questa fatta con una bella analisi anche con link ad altri post su WP Mayor che mi invito a leggere se non l'avete fatto c'è questa prassi da 2011 dicono 2013 e poi l'ho trovata strana uno perché Wordpress diciamo rispetto al panorama open source fa abbastanza storia a sé avendo un ecosistema così forte di plugin venduti e temi venduti e due perché è un caso interessante appunto se vogliamo valutarlo secondo i principi che abbiamo visto prima quindi se sia legale se sia etico se sia sostenibile legale ovviamente sì perché la GPL ce lo permette software GPL lo possiamo ridistribuire come ci pare e quindi ovviamente mantenendo copyright e la stessa licenza e quindi è una cosa legale è una cosa etica per me no alcuni isolatori plug-in dicono ok noi siamo come GPL sta nei giochi va bene lo accettiamo è una cosa sostenibile non credo perché essenzialmente vendere così comodamente il lavoro di altri vuol dire che il guadagno chi ce l'ha non ce l'ha chi produce effettivamente la cosa ma chi ha trovato modo furbo per fare un business essenzialmente e quindi cosa possiamo fare essenzialmente la cosa è abbastanza semplice come diceva prima la citazione di prima possiamo contribuire in due modi essenzialmente tempo e soldi partiamo dai soldi che è facile cosa vuol dire se siamo sviluppatori vuol dire che il tempo per cui siamo pagati per sviluppare su qualcosa con la software open source lo possiamo spendere senza vergogna a lavorare sul software open source direttamente voglio dire abbiamo un bug su un software open source a posto di riportarlo contiamo e quella roba ci serve per lavoro dedichiamoci del tempo non abbiamo le competenze per farlo troviamo il budget e diamolo a qualcuno che possa farlo troviamo una cosa noiosa la sistemiamo c'è la documentazione che è carente posso aprire un ticket o una issue dicendo eh non ho capito questo guardiamoci il sorgente prima di sbatterci sistemiamo noi la documentazione il lato business invece entra nell'ottica che ok software open source ma qualcuno deve pagarlo insomma la gente tende ad avere gli sviluppatori esigenze tipo mangiare dormire e quindi magari con i soldi possiamo aiutarli un esempio interessante su quello che possiamo fare ce l'ho da questo progetto di italianing society l'anno scorso credo di qualche anno fa che si chiama 1% dove dice un progetto rivolto a soprattutto i freelance dice amico freelance tu grazie a software open source riuscire ad avere i clienti avere un prodotto da vendere cosa puoi fare metti in fattura all'1% del tuo lavoro e dici ok questo qui poi lo doniamo agli sviluppatori del software che abbiamo usato per sviluppare questo prodotto ho messo questa citazione che è un passaggio abbastanza interessante che dice non tutti però sono consapevoli del grande guadagno che questo patrimonio software open source rappresenta per loro né tantomeno della responsabilità che hanno per supportarlo tutelarlo e mantenerlo il punto è interessante perché ci fa capire che non c'è un noi e loro se vogliamo che questo ecosistema di software open source giri e continui a girare negli anni cioè dobbiamo entrare nell'ottica di rimucarci le maniche e partecipare tornando al tempo come dicevo prima diciamo un un passaggio non proprio banale perché ovviamente non basta il tempo oltre al tempo ci sono anche le capacità e soprattutto il tempo non vuol dire ah mi sono liberato mezz'ora cosa posso fare il tempo è ok ho un investimento su questo progetto ho interesse questo progetto funzioni bene ci dedico del tempo in modo continuativo ovviamente nessuno chiede di fare i salti mortali e cambiare vita però anche qui le cose da fare sono tante le cose che possono fare sono tante richiedono skill diverse e quindi la possibilità per tutti per contribuire c'è ad esempio magari lo saprete meglio di me non c'è solo il codice c'è la documentazione c'è una cosa che molti ignorano ma se ne è parlato anche sui talk sul supporto stamattina che molta parte del tempo dei sviluppatori della noia e dell'astio deriva dal gestire il supporto sui repository essenzialmente buona parte delle issue possono essere risolte facendo puntare chi ha fatto chi ha riportato la issue alla documentazione oppure semplicemente no guarda questa cosa è già stata riportata non so che la riporti anche tu oppure ma hai provato l'ultima versione che magari hai già sistemato e cose del genere questo porta via tempo e tempo che magari potrebbe essere speso in modo migliore per un sviluppatore e quindi negli anni mi sono fatto questa opinione che non è tanto una questione di ignoranza secondo me è una questione abbastanza culturale cioè non siamo entrati nell'ottica che il software open source è una cosa potente perché effettivamente ci slega dal fatto di essere semplicemente dei consumatori ma ci dà la possibilità insomma di avere le mani in pasta di decidere la traiettoria di avere un peso di non essere essenzialmente gente che subisce le decisioni degli altri ma di poter prendere decisioni e quindi così pensando ci ho detto ma come come lo si può far capire agli sviluppatori perché sono convinto che insomma la gente che ha che fa più fatica a mandare giù questa cosa sono gli sviluppatori si concentrano magari solo sul loro prodotto pensano che quello più che sono pagati sia essenzialmente il prodotto e non guardano l'ecosistema la big picture e quindi boh personalmente ho pensato a due eventi il primo che facciamo qui da qui in toolbox da gennaio 2016 si chiama Trinok Knight e cos'è semplicemente il piano iniziale l'idea originale era c'è un contributore di un progetto open source benissimo viene una sera lo presenta e i partecipanti provano a contribuire ci abbiamo provato per un anno un anno e mezzo e boh l'autobut è che è molto difficile perché trovare persone interessate a un progetto specifico è molto complicato si va da serate in cui ci sono 20-30 persone a serate in cui non c'è effettivamente nessuno eccetto gli organizzatori lo sviluppatore e quindi anche avere progetti diversi quindi tecnologie diverse si fa fatica magari ad avere una presenza continua delle stesse persone quindi a creare un gruppo a creare una continuità e quindi in ultimo tempo siamo passati a una versione più light quindi meno pura ideologicamente se vogliamo metterla così ma che prevede insomma un formato più leggero e quindi c'è una cosa più vicina al workshop che effettivamente contribuere un progetto personalmente per me è stata abbastanza una sconfitta perché l'approccio ideologico mi piaceva e però evidentemente il processo di far capire non è una cosa che si risolve in poco tempo e quindi ci sta nel tempo magari ritorneremo all'idea originale e quindi visti tutte queste cose negative che abbiamo trovato ho detto vabbè su meetup così mi arriva una notifica c'è questo gruppo open source Saturno di Milano sembra interessante ci vado un paio di volte visto che Milano è abbastanza comodo si riuniscono sabato da anche loro da un po' di anni con cose altalenanti sono risultati altalenanti perché ci sono stati momenti in cui gli organizzatori sono cambiati ma mi è piaciuto e abbiamo detto vabbè facciamo la Catorino abbiamo creato questo meetup lo facciamo da anche qui un anno e mezzo anche qui sfortunatamente vorrei stare qui a gioire di grandi successo ma anche qui i risultati sono un po' deludenti per me almeno non si è creato anche qui un grande gruppo di partecipanti il meetup che è una policy abbastanza particolare ma poi se volete ne discutiamo che accetta solo le persone che fisicamente si presentano agli eventi perché personalmente non lo so c'è questa moda di prendere biglietti per gli eventi e non partecipare che mi dà abbastanza fastidio quindi siamo una ventina di iscritte meetup perché effettivamente queste ventina di persone sono venute fisicamente anche qui seguiamo l'esempio di Milano ossia chi ha un progetto da proporre viene la mattina e dice oggi voglio fare questo fa un pitch di 5 minuti anche meno è vero se c'è qualcuno che magari ha le skill che gli interessano o che vuole aggregarsi a fare quella cosa il livello di entrata è più basso rispetto a Dark Knight perché perché ognuno lavora su quello che conosce su quello che magari che ha già visto e non è una sorpresa e dice devo partire da zero non so niente di quello che andremo a fare una nota positiva c'è l'ultimo sabato qui a marzo abbiamo fatto la giornata in concomitanza con uno sprint mondiale sulla documentazione del progetto Pandas che è una libreria in Python per fare cose di statistica abbiamo avuto un record di presenze siamo stati credo in Italia uno dei gruppi più produttivi più produttivi di Milano quindi sono contento e niente quindi probabilmente con il giusto marketing e il giusto progetto le persone partecipano altra cosa ovviamente che non vi dovrebbe essere nuova è che la comunità WordPress organizza i contributor day io non ho partecipato a quello di ieri ve lo dico ho partecipato però uno un anno fa e ho fatto sono riuscito a fare una patch per WordPress che poi è stata emergiata e quindi beh non vi racconto niente dovreste sapere tutto quanti di voi c'erano ieri il contributor day beh un buon numero 30% non male e quindi visto che ho finito il tempo concludiamo le conclusioni sono abbastanza banali però sono quelle a cui tengo la prima è che ovviamente tutti possono contribuire vi ho detto prima tempo, soldi le cose da fare sono tante basta avere voglia e volontà e l'altra è che dobbiamo entrare nell'ottica che contribuire ci conviene se ci aspettiamo insomma che le cose continuino a girare perché siamo fortunati perché il caso gira bene perché gli sviluppatori dei progetti che usiamo stanno bene non fanno figli non cambiano vita va bene e non passano camion giusto continua a tutto funzionare allora volevo lasciarvi con una citazione perché se lo vediamo in ottica magari più grande questa cosa di contribuire perché magari siamo in un tempo in cui questa cosa non è ancora il pensiero di questa cosa non è ancora maturo questa è una citazione presa da un film molto bello se non avete visto guardate la battaglia di Algeri di Pontacorvo e dice cominciare una rivoluzione è difficile è anche più difficile continuarla è difficilissimo vincerla ma è solo dopo quando avremo vinto che cominceranno le vere difficoltà insomma c'è ancora tanto da fare non sarete già stanchi? io spero di no grazie grazie se qualcuno vuole fare qualche domanda abbiamo 10 minuti di tempo a disposizione vieni ci arriva ok di solito ci sono iniziative tipo good first issues insomma tentare di dare a quelli che vorrebbero essere contributori la possibilità di accedere attraverso ticket più facili problemi più facili non so se hai esperienza nella tua esperienza questa cosa funziona e funziona nel senso di non avere una contribuzione al contributore dei una volta ma nel avere una conversione in persone che contribuiscono stabilmente allora secondo me questa cosa funziona per i progetti funziona molto bene secondo me per le liberie in cui la persona c'è l'utente cioè l'utente del progetto lo usa lato sviluppatore questa cosa si usa molto nel mondo javascript e l'ordino che funziona io l'ho provata su un paio di progetti uno che è un application server e quindi scritto in un linguaggio completamente diverso da quello che usano gli utenti per fare le applicazioni che ci girano e un'altra che invece è un progetto di business intelligence e non ha funzionato nel senso che nessuno le guarda le issue e però questo credo sia un problema a priori perché il problema non è tanto lo sviluppatore che vuole contribuire ma non trova la issue ma proprio la mancanza di sviluppatori che vogliono contribuire è un progetto per cui funziona che lo chiamo in un modo diverso lo chiamo easy hack è LibreOffice che per me stranamente ha ancora appeal verso tanti studenti ovviamente per lo più dei paesi tanti indiani non so perché scrivono sui mailings di LibreOffice dicendo che vogliono contribuire e quindi per loro funziona ed è stato un un processo che loro usano per gestire il l'application alla Google Summer of Code per esempio per se vuoi fare un Google Summer of Code dimostrare e fare primo un easy hack quindi la risposta è dipende come ogni cosa se ci sono altre domande abbiamo ancora tempo senti open source o software libero come gestisci le due cose sei proprio software libero puro 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 oppure open source io userei sempre software libero ma oggi prefetto usare l'open source perché credo sia un termine più più conosciuto e che si usa di più nel contesto WordPress però credo che è arrivato a un livello di maturità in cui la cosa è abbastanza intercambiabile a tempo originale diciamo il termine software libero aveva più una connotazione politica ma boh sono passati tanti anni come se la cioè l'ideologia del pre-sorte foundation è un progetto con nu ancora valida e a me piace però per questi tempi non so quanto sia sul livello filosofico sono d'accordo con te io lavoro per MariaDB è un progetto open source è open source però il lavoro è sulla licenza cioè se tu decidi che il tuo software è rilasciato sotto una licenza GPL versione 2 plus come dici tu o adesso sta per uscire la nuova questo vuol dire due cose uno come dicevo non è sufficiente ma è necessario che il codice sia accessibile però ci sono dei modelli di licenza in cui il software è accessibile ma non l'utilizzo del software in maniera libera la stessa licenza GPL dice che una cosa ovviamente poi dipende da software e software forse si prestano meglio altri meno bene ma io che sto parlando di database per esempio tu puoi usare MariaDB io ho anche messo SQL o altri software open source di database ma non sei autorizzato a embeddarli nel tuo eseguibile e a distribuirlo così perché è un breach della licenza in quel caso lì tu devi pagare delle licenze quindi sono due cose diverse una cosa è l'accessibilità del software e una cosa è come lo uso e come lo distribuisco in una soluzione come wordpress è leggermente diverso perché di fatto è già esposta e difficilmente viene meddata è una soluzione però poi è come questo viene utilizzato e come questo viene viene distribuito e sono d'accordo con te che molto della confusione con cui anche noi veniamo contatto quando parliamo con le persone poi al di là che siano aziende singoli sviluppatori è la confusione tra gratis e free che non è la stessa cosa sembra banale dire questa cosa però il gratis e il free sono due cose diverse e il supportare l'open source o con azioni parole e opere come fate voi o come fanno tanti degli sviluppatori quindi mettendo le proprie competenze il proprio tempo nel rendere il progetto più sicuro anche perché controllate il codice guardate che non ci siano security breach o possibilità che qualcuno possa parlavo stamattina con una persona mi dice io mi sono trovata degli utenti di wordpress nella mia tabella che io non so da dove arrivino è appunto no cioè qualcuno magari potrebbe aiutare qualcun altro a capire da dove diamine arrivano magari un plugin magari qualcosa però questi sono i mille occhi della community che possono aiutare il discorso poi di dire io sto basando il mio lavoro su un lavoro fatto da altri che se non ci fosse se domani sparisse questo codice non so se io avrei la mia stessa giornata di sviluppo come ora no quindi il dire contribuire manualmente o in certi casi noi io parlo della mia realtà in realtà ci sono anche poi rapporti di contratti di sottoscrizione eccetera che contribuiscono non soltanto a dare un servizio al cliente ma anche a pagare i sviluppatori che lo sviluppano quindi sono realtà diverse nel caso dell'open nessuno obbliga nessuno a pagare nulla però bisogna sempre pensare che se tu stai costruendo il tuo business su un progetto che open source stai ben attento su cosa stai appoggiando i piedi perché è la migliore soluzione del mondo è meglio che rimanga viva cioè quindi è mia responsabilità ma anche mio interesse primo che l'open source rimanga open prima di tutto e soprattutto che rimanga supportato l'omino nella caverna che abbiamo visto prima c'è da fargli un'assicurazione sulla vita spera che stia sempre bene perché altrimenti tutti noi che viviamo di open source siamo in una situazione critica quindi gratis non è free e open non è gratis nemmeno lui quindi sono sì no ma io non volevo fare il suo talk però si parla spesso e loro ogni tanto si perdono perché io mi è capitato di parlare con persone che faccio miliardi di dollari con tutto software open source adesso sei un ladro cioè che ti devo dire sei un ladro perché io ti auguro domani che tutta la tua filiera di prodotti su cui tu stai facendo i miliardi che sono Apache, PHP eccetera è certo cioè se io bungo la mucca e non le do mai da mangiare la mucca muore ma tu pure però perché alla fine contribuisci come vuoi forse anche che dai alle foundation delle finanziamenti ma fare miliardi è una meraviglia del signore certo però è giusto dire che se io non avessi queste componenti che mi mettono in situazione di poter avere un'azienda che sviluppa servizi in tre settimane perché piglio tutta roba già fatta e magari metto su un'attività di hosting questo uo' in particolare aveva partito questa presentazione con una ragosta larga un metro sullo schermo che diceva questo è quello che mangio quando vado a San Francisco ma ti andassi di traverso perché è dire sto prendendo lavoro già fatto che io non sarei neanche in grado di fare e con questo faccio i soldi ma io sono felice per te ma ne dai una fettina anche a me? a lui a lui a lui che ne ha messo un pezzo delle sue notti insonne allora questo è il caso non sono bravo a fare software perché non c'ho la testa quanti di voi danno 5 euro a wikipedia tutti gli anni? chi non lo dà lo faccia perché tutti noi abbiamo preso più di 5 euro da wikipedia se nessuno di noi desse questi 5 euro a wikipedia wikipedia muore non è proprio bello mio figlio gli faccio dire la di tasca sua perché ci sta basando l'università su wikipedia però quindi è anche il concetto di dire non sono in grado di contribuire a wikipedia non so neanche cosa scrivere su wikipedia però do 5 euro tutti gli anni a quelli di wikipedia perché facciano qualcosa quindi il contributo a un progetto open come quello di wikipedia si può dare anche così basta grazie se vuoi rispondere hai 30 secondi non mi ricordo la domanda ok allora grazie mille